Il suo nome è Beggy Holt, ha un sacco di follower su OnlyFans e pensate che ha creato un nuovo record a livello globale. Innanzitutto è la donna più tatuata di tutta la Gran Bretagna e ha compiuto di recente una scelta importante o meglio molto particolare, azzardo a dire atipica. Quella di farsi tatuare anche l'interno delle parti intime della vulva. Ok? Le pieghe, le labbra. Va bene? Il tatuatore ci ha messo ben 5 sessioni totali per andare a completare il disegno che ha scelto nell'area che, vi ricordo, è un'area molto molto sensibile e il dolore si percepisce piuttosto bene. Già di suo, vi ricordo, che un tatuaggio ha del dolore che comporta sulla zona dove viene ad essere eseguito. La donna di 34 anni di età ha speso più di 42.000 euro per andare a ricoprire tutto il corpo di tatuaggi. Seppure per qualcuno può essere qualcosa di imbarassante, non per la donna in questione. Infatti ha utilizzato, ripeto, un patrimonio per tatuarsi, a tatuarsi quasi completamente. Il suo corpo è avvolto da tatuaggi soltanto il volto, probabilmente l'unica parte che non si è ancora tatuata, ma anche la vulva ha ricevuto i tatuaggi. Da narratore italiano di YouTube tra di tutto, iscrivetevi, commentate, ciao!